A presto e a presto cari, io sono Gisdorio e qui sono l'oglio delle lotte wifi di Pokémon Sole e Pokémon Luna Siamo qua sempre in Overused, lo so, è da tanto che siamo in Overused Le prossime lotte le faremo in VGC anche perché manca anche a me registrare un po' di lotte VGC Comunque in questo video siamo contro Luigi, una persona che ho sfidato nel post della Nesos League Perché vi ricordo nel gruppo Facebook Pokémon Sole e Luna Nesos League Io sono capo palestra fuoco erba, quindi potete venire a sfidare me sia tra... Nelle veci di capopalestra, quando apro la palestra, perché ricordo che c'è una lega composta da 8 capi 4 super 4, se ci batte tutti quanti poi diventate campioni e vincete il premio in denaro Oppure quando faccio i post su quel gruppo dove chiedo le lotte Overused VGC per il canale Come appunto questa qua di Luigi e la scorsa contro Drake La lotta l'ho realizzata nello stesso giorno, quindi il team è il solito Quello con Mandibuzz, Toxapex, Mimikium, Mostazza da Spettro, Dug, Triovolcarona e Kyurem Black Mentre il nostro avversario ci porta un team abbastanza strano perché ha un doppio meteo A Nintels, Lola e Gigalith Entrambi che mettono una condizione meteorologica diversa Nintels la grandine e Gigalith la sabbia Ed è un po' strano in singolo anche perché non sono Pokémon che si vedono molto Forse un pochino Nintels, Gigalith un po' meno, soprattutto in Overused Poi c'ha Glyscore, Cartana, Mega Sharpido e Brilum Detto questo direi subito di cominciare con la lotta Ok ed ecco qua che porta la sfida di Luigi Alenatore che ci fa il segno della vittoria con la mano così E io ancora non ho capito qual è questa posa perché vorrei cambiarla Vorrei cambiare anche i vestiti in realtà Ecco vedete fa la piruetta, è bellissima però non so qual è Quindi se lo sapete dimmi al commento Comunque io lido di Mandibuzz mentre lui lida di Nintels Io non lido di Mandibuzz perché sono scemo ma perché Ma aspettavo un Gigalith in lead Che ok è pericoloso lo stesso però io lo reggo perché è suo difensore fisico E poi potevo provocarlo nel caso volesse mettere le rocce o fare qualcosa di strano Invece no, mi lida di Nintels quindi io ritiro Mandibuzz perché non siamo in doppio Le bore non le regge benissimo e potrei rimanere frizzato Non vorrei, grazie Mentre io e quindi mando Volcarona che si incassa ecco qualsiasi colpo di Nintels Grazie al tipo fuoco perché Nintels è un ghiaccio feri Feri ghiaccio vabbè uguale Però lui non ha attaccato ma bensì ha messo l'avello Aurora Che è quella mossa che fa sia da schermo luce sia da riflesso Quindi la sua squadra regge qualsiasi colpo sia speciale che fisico senza troppi problemi Io ho fatto nelle danza nel caso fosse rimasto in campo con Nintels Ma era abbastanza improbabile perché infatti mi ha messo Gigalit Mentre Nintels non mi fa assolutamente niente a Volcarona Scusate, Gigalit mi ci fa il culo perché Volcarona è debole 4x alla roccia E quindi sai com'è? Non posso tenercelo davanti E mando in campo Toxapex perché era l'unico che poteva bene o male ceccarlo Tra l'altro mi ha sparato la mossa Z diretto Io qua non l'avrei fatta la Z diretto perché se fosse rimasto con Volcarona Mi avrebbe sciottato anche semplicemente di Frana o Pietrataglio La mossa Z era un po' sprecata Forse ha predictato il mio switch anche perché era palese Voleva colpirmi forse Mandy Buzz e farmi il più danno possibile Non lo so Comunque Toxapex si prende abbastanza bene una mossa Z Considerando che è danno neutro Se era super efficace ovviamente Toxapex moriva perché Qualsiasi mossa Z sei super efficace e butta giù l'avversario Salvo casi particolari o sei super boostato nelle difese Non ti fa niente comunque E qua faccio ripresa perché non mi aspettavo terremoto da Gigalit Pensavo andasse di levito roccia a questo punto Ma mi sa che non ce l'aveva Anche perché Gigalit ve l'ho detto in singolo non si vede molto giocato Quindi non so bene o male come si giochi Anche perché io gioco soltanto Overuse del VGC in pratica Le altre categorie non le gioco Comunque qua ritiro adesso dopo aver fatto ripresa Perché ho visto c'è terremoto Ma nel campo Mandy Buzz che comunque con ripicca gli fa male Anche perché Veloura mi pare sia finito in questo turno Sì mi sa di sì dai danni che ho fatto sì Non ho letto bene la chat adesso però mi sa che era finito Pietrataglio pensavo di reggerlo meglio Invece no mi fa Cuit che gli ossicuri Però è più lento Quindi io posso usare Trespolo e perdere il tipo volante E reggerne un altro meglio di prima Intanto lui non va di Stonage questa volta va di Frano Perché aveva paura di missare Lo capisco perché veramente quella mossa missa quasi sempre Quando la usavo su Terrenitar mi missava ogni 2x3 E ritiro adesso Mandy Buzz perché non mi potevo prendere un'altra pietrataglio Che infatti vi dicevo ecco qua la missata Però la missata su Toxapex Non vado a fare ripresa ma vado a fare idrovampata perché senza sabbia e senza velo Quel gigalit le mosse speciali se le prendeva veramente molto male Di pietrataglio non mi shoottava come abbiamo potuto vedere qui E quindi posso fargli 2 idrovampata e tirar giù il problema principale per il mio Volcarona Perché senza gigalit Volcarona era abbastanza a piede libero salvo il suo Sharpido Quello è vero però se mi busto prima la speed dell'attacco speciale Quello Sharpido non mi outspeed e posso tirarlo giù Comunque manda in campo Glyscore Io mi aspettavo un Terremoto Che comunque avrei letto con Kyurem Non ho mandato Mandy Buzz perché era abbastanza inutile mandarlo Se poi metteva le rocce era un problema Potevo fargli The Fog si è vero Però preferivo tirarlo giù con questo Kyurem Tra l'altro lui va di Frana Frana è un'altra mossa che su Glyscore io non ho mai visto Frana su Glyscore non l'ho mai visto Non lo so adesso se i set di Glyscore sono cambiati Io ho ancora quello vecchio come avete potuto vedere in altre lotte Quello con Protect Toxic e Heartwork Seltro Però boh Vabbè intanto è rimasto in campo e si è preso Light Beam Non so perché l'abbia fatto in realtà E vabbè poteva mandare Ninthers già da prima Si prendeva un po' di danni però la resiste Almeno quello si ce la può fare e può farmi male come un Blast Oppure risettare in tutta tranquillità il Velo Aurora Poi magari avrebbe anche eretto quel Glyscore col Velo Non lo so perché non l'ho fatto i calcoli col Velo Aurora Il Velo Aurora attivo non li faccio quasi mai Perché appunto è una situazione che in singolo non si vede Comunque non c'avevo bisogno di fare i calcoli Stando diretto di Ice Beam e ciao Lui ora ha rimesso il Velo come vi dicevo prima E io sono rientrato di nuovo di Volcarone Siamo nella stessa situazione di prima Soltanto che non c'è più Gigalit E quindi io posso stare senza pensieri Perché anche se adesso entra a Sharpido Io dopo lo out speedo perché sono a più 1 in speed Mentre lui ancora no Perché buttandolo dentro non gli si attiva l'acceleratore E quindi non andiamo a parità di boost E non è più veloce di me quindi Infatti così avviene Io mi sono boostato qui con l'Eledanza La Grandine mi fa danno Prima a me infatti Come possiamo vedere Questo qua è un fattore che ti fa vedere Chi è più veloce rispetto all'altro Se non lo sapete Se la Grandine o la sabbia attacca prima un Pokémon Vuol dire che quel Pokémon è più veloce Se l'attacca per ultimo Ovviamente è il più lento Comunque continuo a fare Eledanza 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 Perché lui avrebbe probabilmente fatto protect Io mi aspettavo Cosa che non ha fatto E vabbè Mi aspettavo protezione giusto per avere Il boosting speed che prima non ha avuto Lui non l'ha fatto Ha preferito andare di sgranocchio Magari si aspettava un mio Switch Avrebbe fatto meglio secondo me A fare sempre Cascata Forse Si aspettava Toxapex forse Si però non l'ha fatto Ha fatto sgranocchio Volcaron ovviamente l'arretto E grazie all'abilità corpo di fuoco Si è attivata la probabilità di scottare Quello Sharpido Che mi è andata molto molto a favore Molto molto vantaggiosa questa situazione adesso per me Perché lui di cascata non mi tira giù È più lento anche perché ha più 1 in speed E non ha più 2 O almeno prima che si Mega Evolvesse Era più lento Mentre adesso Si Mega Evolve è più veloce Però comunque non mi riesce a shottare E salvo flinch Io di giga assorbimento Lo dovrei tirare giù Salvo che c'è la velo aurora Infatti non lo tiro giù Perché guardate qua Intanto non ho flinchato Grazie a Dio Grazie a Dio Perché una volta ci ho perso Una partita di un torneo Per colpa di un tentennamento di cascata L'ho pure caricata sul canale Quando era ai tempi di Horus Se non avete visto Andarla a vedere E vedete il velo aurora Qui ha permesso A Sharpido di rimanere vivo Ma è morto comunque di Eil Che ha messo il suo Ninthels E se non moriva di Eil Moriva di scottatura Quindi Non è stato un problema Adesso Volcarona Ha il campo libro Può fare quello che gli pare Anche perché c'è Kartana dall'altro lato Che non fa assolutamente niente A Volcarona Con le sue due stab Posso fargli male Di vol di fuoco Guarda avrei voluto fare Anche giga assorbimento Forse le avrei fatto Lo stesso danno Perché Kartana Ha defesa speciale di merda Lo sappiamo E sono a più 2 Più 3 Non ho fatto Non sono stato a vedere A quanto sono arrivato Qui mentre commentavo Non mi sono accorto Comunque a notte sperza Questo Kartana Tra l'altro Molto strano Perché notte sperza Di solito si usa Nei set Scarf Oppure Strano Invece questo qua Non c'è la spada solenne A sto punto Comunque Rimane nel sesh La grande ne finisce Quindi aveva fatto bene I calcoli di lui Per buttare dentro Kartana Peccato che non gli basta Il colpo Per farmi fuori Volcarona Perché questo qua Il Volcarona Bulky Quello con gli avanzi Che fa E le danza E non quello Sweeper Cioè in realtà Non so quale sia meglio Dipende dalle situazioni Perché se vuoi essere più veloci Usi quello Sweeper Se vuoi essere un pochino più bulky Ma fare comunque danni Usi questo qui Comunque Ho fatto il giga sorpimento Giusto per recuperare Quel PS Che mi serviva Lui manda in campo Ninetales Però sa di non poter fare più niente Perché era rimasto Tutto Ninetales E Brilum Contro Volcarona Non fanno niente E quindi la lotta Finisce qui Se vi è piaciuto E mettete un piacere Commentate Iscrivetevi Mi raccomando Entrate nel gruppo Facebook Della Nesos League Evite a sfidarmi Anche lì Quando faccio i post Sia per la palestra Sia per le lotte Qui sul canale E ciao ragazzi Ciao Sono la voce parlante Di quest'outro Clicca sopra il nostro logo Per iscriverti al canale Invece se vuoi vedere I nostri video precedenti Clicca uno dei due video Che trovi sulla tua sinistra E buona permanenza sul canale